Buongiorno, cosa ne pensa della micro auditoria, dell'evento? È la prima volta che viene, racconta un po' le sue esperienze. Allora, sì, è la prima volta che mi trovo qui e oltre al setting che è veramente bellissimo, credo che sia una bellissima iniziativa, vedo tantissime persone interessate all'evento, tantissime persone che vogliono capire qualcosa di nuovo e quindi credo che sia molto importante per tutti e per la crescita in generale, tutti quelli che vogliono partecipare. Grazie.